La Fondazione Francesco Fabri promuove, presso Villa Brandolini, a Solighetto di Pieve di Soligo, una delle più importanti mostre di fotografia dell'anno. Dal 12 al 28 agosto, la grande dimora settecentesca, ubicata nel cuore pulsante delle ridenti coline trevigiane, diventa il fulcro di tre notevoli mostre fotografiche. La prima, corrispondenze elettive, vanta un catalogo di ben 74 immagini, realizzate da Paul Strand e Walter Rosenblund, tra i più significativi esponenti del panorama fotografico mondiale. La loro collezione comprende fotografie realizzate in un arco di tempo che abbraccia le due guerre. Strand si fa promotore e portavoce di quella che viene definita la fotografia diretta, stralci di modernismo fotografico, quasi immagine documentaristiche di un'epoca, di una realtà, che rompe completamente con la tradizione precedente, quella che vedeva la fotografia imitare l'arte pittorica. La seconda tranche di opere esposte è quella Il Pittorialismo Italiano, la collezione Fast, dedicata alla rivisitazione del concetto di fotografia nella modernità. È possibile inoltre vedere una trentina di scatti relativi a Chernobyl, l'eredità nascosta, una testimonianza diretta e toccante, su una grande tragedia che ha coinvolto tutti noi. Queste esposizioni segnano un punto molto importante all'interno del panorama fotografico nazionale, proprio per l'altissima qualità delle opere proposte. Paul Strand è infatti riconosciuto maestro della fotografia mondiale, uno dei dieci maestri più influenti della storia della fotografia. Qui è proposto avvicinandolo ad un altro importantissimo fotografo americano, Walter Rosenblum. Le mostre sono curate da Enrica Viganò e Carlo Sala. Nelle sere della villa saranno esposti i lavori di Pierpaolo Mitica, allievo proprio di Walter Rosenblum. L'intero progetto è curato da Carlo Sala e si avvale della collaborazione del comune di Pieve di Soligo, patrocinato dalla provincia di Treviso e dalla regione Veneta.